La Marina Militare Italiana contribuirà in maniera decisiva, quindi anche economica, al recupero del relitto del Francesco Padre, il motopeschereccio di Molfette, inabbissatosi la notte del 4 novembre del 1994, a largo delle coste del Montenegro. Lo ha detto l'ammiraglio di squadra Andrea Toscano, che con il collega contraammiraglio Salvatore Giuffré, ha incontrato il capo della procura di Trani Carlo Capristo e il magistrato Giuseppe Maralfa, che hanno riaperto l'inchiesta già due volte, archiviate in passato, Per fare definitivamente luce sul mistero, adagiato a 240 metri di profondità, il recupero del relitto è ritenuto di fondamentale importanza dagli inquirenti. Per le operazioni sono già stati stanziati 300 mila euro dal comune di Molfette e altri 100 mila dalla regione Puglia. Ci saranno dei team di lavoro in stretto coordinamento con la procura per definire cosa, come e quando fare questa operazione. Un'operazione che ha dei costi? La Marina ha delle tabelle di onerosità che sono state riconosciute per quanto riguarda l'impiego degli uomini e dei mezzi della Marina. Tra le ipotesi degli inquirenti, lo ricordiamo, l'atto di ritorsione nei confronti del comandante dell'imbarcazione, che potrebbe aver opposto un rifiuto alla richiesta di una tangente da parte dei marittimi montenegrini per pescare nelle loro acque territoriali. Ma al vaglio ci sono anche le piste dell'incidente e quella dell'affondamento da parte di un sommergibile della Nato impegnato nella zona ai tempi della guerra nei Balcani. Non escluso che le operazioni della Marina e della Guardia Costiera possano cominciare prima dell'estate. Noi metteremo a disposizione le nostre risorse di uomini e mezzi in collaborazione anche nella nostra funzione di ufficiale di Polizia Giudiziaria con la procura di Trani.